Era una posizione perfetta per calciare, era davanti alla porta, poi c'era un po' anche il sole per il portiere che se andava in porta sarebbe difficile da prenderla, però non ha servito da nulla il gol, parlando della sconfitta, però secondo me abbiamo fatto una bella gara, abbiamo giocato calcio, per il momento molto bene, altri momenti in difficoltà, però la squadra ha avuto personalità per giocare la partita. Ci dispiace prendere i gol così, però succede, si ci provi a giocare, comunque dobbiamo continuare a lavorare e continuare a cercare di migliorare ogni partita. Sono molto contento, ho fiducia, sono tranquillo, sto sfruttando questo momento che è bello la mia carriera e cercare di continuare a migliorare, aiutare la squadra per ritrovare ancora una volta il risultato, che comunque al di là di tutto, oggi siamo un po' tristi per il risultato, però testa alta, dobbiamo continuare. Con la SPAL il sabato prossimo cercheremo di continuare a fare quello che stiamo facendo, giocare a calcio e provare a fare il risultato.